My Face, My Work è un racconto fatto di racconti, una storia nata qualche anno fa. Io sono un sognatore, uso gli strumenti che sento miei per creare progetti che ritengo abbiano un concetto profondo e umano. Se volete saperne di più, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i nuovi episodi. Io sono Fabio Massimo e questo è... My Face, My Work C'è un certo descrizione alla mia intervista. Cosa ti ha suscitato a livello che tu sei abituato a vederci davanti a uno schermo? Invece, avendoci davanti... Ciao Sabrina, come stai? Ciao, sto molto 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 bene. Con quale nome sei conosciuta? Sono conosciuta in arte col nome di La Sabri, magari qualche anno fa come La Sabri Gamer. Che lavoro fai? Di lavoro faccio la content creator. Cioè che quando faccio... Anche ieri mi ha chiamato la team e metto lavoro e content creator... Con che... Vabbè, metti qualcos'altro. È ciò che sognavi da bambina? No, perché quando ero piccola io non c'era questo mondo. Io da piccola sognavo di fare la cassiera perché mi piaceva molto... Bleep, bleep, bleep. Eh sì. Cosa ti piace fare nel tempo libero quando non sei sui social? Nel mio tempo libero io sono sui social, cioè sono sui social sempre, sia nel tempo libero che nella mia vita lavorativa, anche se sto cercando di calibrarmi un attimino perché penso che tutto il mondo stia facendo un uso sbagliato dei social. Sostiamo troppo tempo ai social, quindi mi sono messa a un limite di un'ora e mezza che non rispetto mai. Mai. Vabbè, adesso ho la scusa però perché scusa, mentre ho il bambino addosso, all'atto, qualcosa devo pur fare, unisco, cioè faccio lavoro, divertimento. E sto a contatto con comunque il mondo del web e social tutto il giorno. Quando hai iniziato sui social e perché? Ho iniziato sui social 2014, se non sbaglio, perché... Allora... Ah, perché... Presentavo degli eventi di videogiochi, intrattenimento e tante persone anche del settore mi dicevano ma raccontati su YouTube perché hai tanto da dire, tanto da fare, quindi uno più uno più uno più uno... Ho aperto un canale YouTube. Quanto è importante oggigiorno stare sui social? Per me è molto molto importante, sia lavorativamente che per passione. Capisco però chi non ci vuole stare, che magari ha proprio una paura di approcciarsi perché penso che ti cambi proprio la vita e il modo di vedere le cose. E quindi magari una persona che non è cresciuta con questo può avere paura della cosa, però penso che... Adesso tutti i bambini adolescenti è difficile trovare una persona che non stia sui social, parecchio difficile. Quanto è difficile stare sui social? Per me non è assolutamente difficile stare sui social, è proprio la mia vita. Penso di essere una delle poche creator che non pensa prima di registrare. Cioè nel senso non ho un copione, non ho una scaletta, quella che si vede dai social sono veramente io. Io prendo registro, quindi per me è molto facile. Per altri invece può essere tipo difficilissimo la cosa più difficile del mondo perché magari si è personaggi sui social e non vita vera. Cioè io sono la persona che si vede sui social. Qualcuno è personaggio che magari è difficile perché devi sempre stare attento a cosa filmi, cosa fai vedere, cosa dici e chi sei sui social. I social che paure ti generano? I social non mi generano alcuna paura, nonostante magari per altri ho paura per altri. Ti faccio un esempio stupidissimo. Ogni sera, da ormai quattro anni, ho una rubrica su Instagram dove io rispondo alle domande dei fan, personali, non personali. E da qualche mese faccio anche una rubrica anonima. Si sa che quando c'è l'anonimo sui social partono gli insulti, le prese in giro, ma anche tra ragazzini della stessa classe, perché sai quando non c'è il nome dietro si tende a esagerare un po'. Quindi io dico sempre ai ragazzi, io le faccio, ma perché io sono anni che mi faccio scivolare addosso alle cose, ho un'età diversa. Voi non fatele mai perché ho paura, cioè mi metto nei panni di una ragazzina di 15 anni che magari fa questa rubrica anonima e le viene scritta. Sei una ciccione, fai schifo a scuola, non studi questo, non hai le scarpe di marca. E capisco che può essere super pericoloso e quindi bisogna stare attenti, specialmente quando si ha persone un po' fragili o persone che se la prendono. Quanto contano i numeri? Allora, purtroppo i numeri contano, ma devi volerlo tu, nel senso che magari puoi essere una persona che rimane soddisfatta del proprio lavoro, a prescindere che un contenuto faccia tanti numeri o pochi numeri, come il contrario. Io purtroppo sono una persona che i numeri li guarda, però a livello lavorativo, nel senso che se faccio una cosa che piace a me per passione, per divertimento, o che magari senza brand, non mi interessano i numeri, mi interessano quelle persone che vedono che cosa hanno da dire. Se invece c'è di mezzo un'azienda o un brand, i numeri contano. Cosa cambieresti dei social? La cosa che cambierei dei social è che lo vieterei a ogni persona che ha una cosa brutta o cattiva da dire. Cioè io sono dell'idea, se una cosa non ti piace, passa avanti, non c'è bisogno che ti soffermi, a meno che non fai una critica costruttiva, che allora mi sta benissimo, esempio stupido, mi è piaciuto il video ma c'è quella luce fastidiosa che non mi ha fatto concentrare bene, mi va benissimo. Oppure ti trovo una persona intelligente ma non mi piace il tuo sarcasmo, allora così mi sta bene, ma se devi venire per insultare, io ti vieterei proprio l'accesso su ogni social, cioè tu non puoi più entrarci, che è un po' la mia isola felice. Se tu vieni sul mio Instagram o sul mio YouTube e metti un commento cattivo, tu non potrai mai più commentare e sarai bannato per sempre. E non ci sarà modo di essere sbannato. Da quando hai iniziato i social che hanno cambiato? I social mi hanno sicuramente cambiato... Perché? Esempio stupido. Quando adesso esco mi devo fare problemi sul dove vado, sul che orario vado. Faccio una cosa banale. Devo andare al supermercato, ho fretta di andare. Ci devo andare mentre i ragazzini sono a scuola. Perché magari ho fretta, mi fermano dieci persone, io non ho il tempo per chiacchierare o fare la foto con quelle dieci persone e passo per cattiva quando io gli dedicherei il mondo ai ragazzi che mi seguono. Però purtroppo hanno cambiato un po' il modo sia di vivere la vita che anche un po' il modo di essere. Perché comunque un po' ti gasano, ti pompano. Quindi nonostante io cerco di rimanere con un profilo basso, sai che ovunque vai sei comunque un po' voluta, acclamata. Magari ti cercano anche proprio per i numeri. Quindi questa cosa ti gasa un attimino. Però sono comunque tranquilla, fatta, sono una persona a posto. Sei consapevole di quanto la tua persona sia influente? Sono assolutamente consapevole della nostra influenza. Sì 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 perché la prova è ogni volta che io incontro da qualche parte, io banalizzo col supermercato, mi ferma la figlia o anche adesso la mamma o anche papà perché abbiamo ingrandito il nostro pubblico e si complimentano sul messaggio che diamo sempre. Molto spesso mi è capitato Grazie a te mia figlia mi ha parlato del suo problema. Grazie a te mio figlio si è aperto. E quindi questo mi fa capire che ho veramente un'importanza nella vita delle persone. Quindi devo sempre stare attenta a quello che dico, a come lo dico. Questa è una cosa che ho imparato con il tempo. Ma la responsabilità che abbiamo è una roba incredibile. Un oggettivo diverso. Non ho detto imbarazzante. Con chi stai parlando? Con mio marito. Mio marito ormai ho imparato, sei mio marito, non sei il mio fidanzato. Quanto conta essere originale? Sicuramente tanto, ma devi riuscire nel mio caso a rendere originale la tua persona. In un mondo che è molto finto io penso di essere originale, di creare originalità con il mio essere vero. Perché tu sei abituato a vedere un contenuto impostato e a me vedi che ho i peli sulla maglietta, che ho la casa che non è pubblica. Nonostante questo faccio le mie cose e penso che sia proprio questo. E' importante, diciamolo questa cosa. Cosa intrattiene uno spettatore davanti a un format che si ripete? La persona. Io sono convinta che se sono seguita così tanto sia per la mia persona. Perché molto spesso io faccio video molto simili. Un unboxing, uno spacchettamento. E se la gente continua a guardarli è perché mi vuole bene, prima di tutto. Perché si è affezionata, quindi si è creato questo legame indiretto. Perché loro sanno chi sono io, ma io non so chi mi sta guardando. E sono sicuramente affezionati a chi sono, a come propongo le cose. Non è tanto il vedere che cosa ho da far vedere, ma la mia persona. Da cosa sei ispirata? Cosa ti spingi a condividere? La risposta del pubblico. Nel senso che io pubblico e nonostante non ti risponda perché è impossibile a livello di numeri, io leggo tutto, tutto, tutto quello che mi scrivono. Tutto, qualsiasi cosa. Quindi io condivido, per il piacere mio di condividere, ma perché so che qualcuno dietro guarda e ha un pensiero per me. Che sia bello, che sia brutto, che sia no, qualsiasi. Però c'è una risposta. E che io lo dico sempre ai ragazzi che mi guardano. Voi non ricevete una risposta perché è impossibile. Ma io vi leggo e se siete cattivi vi vanno. Lo vedete perché non c'è più il mio profilo. Cos'è per te la creatività? Allora, cos'è per me la creatività? È raccontare quello che faccio nella mia maniera. Perché io non penso prima di fare, non ho un copione, ma racconto molto col mio mood della vita. Nel senso che se sono triste vedrete un contenuto triste, una storia triste. Se sono felice vedrete un contenuto felice. E questo fa parte della mia creatività. Perché non sono una persona che fa il copione, prende, scrive, dirige, mette le luci. Molto spesso io registro senza luci, sporca, senza aver sistemato il set. Questa è la mia creatività e conta tantissimissimissimo. Vero Salem? Sì, è verissimo, mammina. Sì, sì, però continuo a farmi le coccole. Quanto contano le collaborazioni con le aziende? Com'è il rapporto con loro? Ti lasciano libera o ti danno vincoli che limitano la tua creatività e il modo di essere? Quanto contano il rapporto con le aziende? Parlo per me, facciamo così, non parlo in generale. Per me non contano. Nel senso, adesso ti spiego bene. Io guadagno da altro. Io guadagno da YouTube. E ci campo bene. Quindi, di base, non ho bisogno di collaborare con le aziende. Io collaboro con l'azienda solo se credo nel prodotto. Esempio stupido. Sono cliente di questo prodotto? Va bene, lo sponsorizzo. Io mi definisco l'anti-influencer perché chi lavora con me, poverino, ci smena un sacco di soldi perché io non accetto praticamente niente. Quindi, nel mio caso, conta se sono fan del prodotto. Se no, purtroppo, a me non importa. Non so che è un po' brutto da dire. Però non mi importa. Cioè, vivo con i miei mezzi. Per te stare sui social è un lavoro? Per me stare sui social è una passione che è diventata un lavoro. Nel senso che, a prescindere se non guadagnassi, lo farei. Esempio banalissimo. Su Instagram non si guadagna. Cioè, lo sai anche tu che mettendo post e storie non si guadagna. Ma io metto 40 storie al giorno. Ma tu dici perché? Perché è la mia passione. Lo fai più per lavoro o per spirito di condivisione barra voglia di creare? Differenziamo le cose. Instagram è per condividere perché non è che creo dei contenuti ad hoc. Racconto la mia vita. Cioè, io sono forte forse perché proprio racconto la mia vita senza cose nascoste, senza maschere. E quindi non è che creo un contenuto ad hoc. Cioè, li faccio, ma raramente. Io condivido perché mi piace condividere. Via. Quello che ho da dire io dico. Non ho un filtro. Via. Lo faresti ugualmente se non ci fosse un guadagno? Beh, ho iniziato a guadagnare dopo un bel po' quindi assolutamente sì. Lo farei. Magari non riuscirei a farne così tanto perché se io adesso sono sui social dalla mattina alla sera se avessi un lavoro passatemi il termine normale che magari sono otto ore d'ufficio non potrei avere quelle otto ore per stare sui social. Ma il resto del tempo lo farei. Ricordi quando hai cominciato a funzionare? Ho cominciato a funzionare nella mia testa quando ho iniziato a campare di questo. Cioè, quando io ho dovuto dire al mio capo non posso più venire e lui se n'è accorto perché nel negozio era solo venire a far foto lì ho capito ah, ok è la mia nuova vita. Cosa ti gratifica di più di quello che fai? Mi gratifica il sapere di aver aiutato indirettamente perché molto spesso è indirettamente una persona. Cosa faresti oggi se non avessi intrapreso questa strada? Non ti so rispondere perché sono una persona che non pianifica il futuro. Forse è un errore forse è un mio pregio non lo so. Io non so che cosa faccio domani non so che cosa faccio stasera so forse che cosa faccio tra mezz'ora quindi non mi sono mai posta questa domanda e quindi non ti saprei dare una risposta ma forse perché sono talmente felice nel mio ambito nel mio lavoro nella mia vita che sono talmente soddisfatta che voglio vivere questa e non penso a cosa avrei potuto fare. Dove ti vedi in futuro? Sicuramente a casa con i figli cioè non so se la tua domanda era lavorativa però io vedo quello che sto facendo ora identico con più persone nel mio mondo quindi un marito da un figlio magari diventano due barra tre però quello che vedo e che spero è che continui un po' questo andazzo qua cioè quello che sto facendo mi gratifica molto mi piace è comodo perché io lo posso dire lo ammetto è comodo il poter lavorare da casa ora di che vuoi esempio è stupido io voglio andare due settimane al mare in vacanza io mi programmo la vita per queste due settimane che arrivano e vado via quindi è comoda è bella non posso chiedere di meglio rifaresti tutto? non ho rimpianti rifarei tutto sì è stato tutto bello anche se col senno di poi alcune cose sono finite si sono interrotte rifarei assolutamente tutto sono dell'idea che tutto faccia brodo quindi tutto sia giusto per la persona che sono è grazie a tutte queste cose errori i pregi i difetti tutto quello che ho fatto è un miscuglio un bel mix di tutto ho creato la persona che sono chi è Sabrina? cosa non sappiamo di te? eh raga so che magari è strana la risposta che io vi sto per dare ma se mi seguite al 100% voi veramente sapete tutto 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 di me perché io non ho problemi a parlare di ogni argomento magari questo lo taglialo io parlo anche che ho le morroidi dopo il parto senza alcuna vergogna perché questo essere così libera così trasparente per me è allora parte che vabbè mi fa sentire meglio a me cioè nel senso mi fa sentire come se non avessi niente da nascondere che su un social per me è molto importante forse esagero anzi sono sicura di esagerare però davvero tra youtube tra instagram se magari mi seguite da tanto perché sono alcune cose che magari ho raccontato prima che ora non racconto più voi conoscete sabrina al 100% nelle cose belle nelle cose brutte è brutto quello che ti sto dicendo cioè da fuori può essere interpretato male vero? che io dico ogni cosa però purtroppo non è una cosa che ci penso cioè io non sto a pensare ma questa cosa qui potrebbe essere vista male io sento che devo dirla la dico che consiglio ti senti di dare a me che sto incominciando? non essere chi non sei perché nella generazione di oggi si tende sempre ad esagerare che un po' lo capisco perché se non sei un po' fuori dalle righe sopra le righe non riesci a spiccare cioè se sei uno qualunque ormai il web è saturo cioè uno tu vuoi fare quello c'è già quello che lo fa tu vuoi fare questo c'è già quello che lo fa quindi devi riuscire a fare quel contenuto o essere quella persona che ancora non c'è essendo te stesso perché se ti snaturalizzi io lo capisco e io non ti seguo più questo è il bambino che vuole il latte e adesso lo attacchiamo l'intervista è finita grazie mille grazie a te adesso che ti ho conosciuto un po' di più ti porto nel mio mondo vorrei ritrarti tramite ciò che amo fare la fotografia e condividerti attraverso ciò che tu ami fare e che io sto incominciando a fare i contenuti social ok super volentieri posso avere il bambino? nel senso che io penso che in un mondo di social che è molto flammato hai ragione io sto guardando in camera perché è abitudine non preoccupare il mio raccorto fa parte del teatro ok adesso provo guardare te